Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Fortbyte numero 50, accessibile di notte all'interno dei castelli in rovina in cima alle montagne Non dovremo utilizzare nessuna skin o backpack in particolare per sbloccare questo Fortbyte Ma dovremo essere fortunati e beccare una lobby in cui è notte Eccoci qui in gioco ragazzi, forse abbiamo beccato la lobby giusta, vediamo se ce l'ho da ora sbloccato Dove dovremo buttarci? Allora, il castello in rovina si trova proprio sotto Crocetti del Ciarfame, alla destra di quello che è Montagnole Quindi pinniamo e ci richiamo lì Ecco il castello che stiamo cercando Allora, andate proprio nella sezione centrale Scendete per di qua, si vede già la luce Il nostro Fortbyte sarà proprio qui Quindi ragazzi, ricordatevi questa sala posta proprio al centro del castello in rovina Utilizzate poi questa porta Ed ecco qui il nostro Fortbyte Lo prendiamo, dato che è notte, fortunatamente è sbloccato Missione completata Se andiamo a zoomare il castello si troverà qui Io spero che questo video vi abbia aiutato Se così fosse vi invito a lasciare un bel like, condividerlo con tutti i vostri amici E soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Noi ci becchiamo molto presto in una prossima guida Un salutone da Martex See ya brothers